Siamo in Cina, nel 1958. Mao e il suo regime sono pronti al prossimo grande balzo in avanti. Le grandi cooperative vennero riunite sotto giganteschi comuni popolari. Vennero realizzate 25.000 comuni, formate da circa 5.000 famiglie ciascuna. Il progetto era di sfruttare le grandi masse contadine per un rapido sviluppo agricolo e industriale. Idearono un nuovo piano per erradicare i quattro flagelli, la piaga delle campagne cinesi, zanzare, ratti, mosche e passeri. Per strenare gli insetti, diedero ai bambini pompe di DDT, ovvero paradichlorodifenil trichloroetano, un insetticida utilizzato anche contro la malaria. Oggi è noto come un possibile cancerogeno ed è vietato in molti paesi del mondo. Per i ratti, invece, vennero organizzati concorsi a premi, per chi avesse portato il maggior numero di carcasse o di code di ratto. Il problema è che i contadini iniziarono ad allevare i ratti anziché andare in giro a catturare quelli salvatici. Non potendo risolvere il problema, il programma venne abbandonato. La lotta agli uccelli fu quella più problematica. Mao pensava che fossero gli uccelli a mangiare gran parte del raccolto. Per sterminarli, milioni di cinesi scesero nei campi, nelle piazze e nei boschi, con tamburi e vendole, per sbaventare gli uccelli. L'obiettivo era quello di farli volare fino a farli cadere per lo sfinimento. Burgoni pieni di carcasse divennero una visione comune. Si stima che circa 8 milioni di uccelli morirono causandone la quasi scomparsa in Cina. Fu una grande vittoria. Tuttavia, l'anno seguente, con la scomparsa del loro predatore naturale, cavallette e locuste decimarono un raccolto già impattato da una siccità. 30 milioni di cinesi morirono. Nel mentre, Mao e il suo regime puntarono ad altri progetti stravaganti. Zedong dichiarò che in 15 anni la Cina avrebbe raggiunto la Gran Bretagna nella produzione di acciaio. 60 milioni di contadini vennero allontanati dai campi per la produzione metallurgica. Vennero costruite migliaia di piccoli fornaci in ogni comune e quartiere cittadino, utilizzando rifiuti, scarti di metallo, pentole, utensili, perfino le rete metalliche dei letti. Mentre mobili, porte e finestre vennero utilizzate come combustibile. Il metallo prodotto fu di scarsissima qualità. E dopo una visita in un'acciaieria tradizionale in Manciuria, Mao constatò come solo una grande fabbrica riuscirebbe a produrre acciaio di qualità. Tuttavia, decisero di non abbandonare il progetto per non spegnere l'entusiasmo rivoluzionario. Circa 100 milioni di contadini vennero mobilitati per trasformare le campagne attraverso la realizzazione di dighe, bacini e canali di irrigazione. Ma i progetti vennero assegnati agli stessi contadini, anziché a tecnici qualificati. Resta a voi immaginare i risultati ottenuti. Oltre ai progetti economici e infrastrutturali, la Cina si affidò a pseudoscienziati come Trofim Lisenko, scienziato russo padre di molte teorie agricole screditate. In particolare, la semina ravvicinata e l'aratura profonda. Pensavano che le piante della stessa specie non sarebbero entrate in competizione per le risorse, ma avrebbero cooperato creando radici vi forti. Erano convinti che la produzione sarebbe aumentata di dieci volte o più, ma i raccolti furono decimati e milioni morirono distenti. Il governo cinese dè delle colpe a la siccità e ad alluvioni. Tuttavia, testimoni locali negano la presenza di eventi climatici sfavorevoli durante il periodo della carestia. Il grande balzo in avanti, un successo nelle prime fasi, ma la produzione crollò nel 61 e non raggiunse più i livelli del 1957 fino al 1964. Nel 59, Mao rinunciò alla carica di presidente della Repubblica, mantenendo quella di presidente del partito, e il suo successore dichiarò che la carestia fu dovuta a errori umani, anziché a cause naturali. Il grande balzo in avanti fu interpretato in modo da trovarne i lati positivi. È stato presentato come un'accelerazione del processo di trasformazione della società, da socialista in società comunista. Molta importanza è data anche alla ricerca di una via cinese al comunismo. Da un punto di vista militare, la decentralizzazione avrebbe reso la Cina impermeabili a un qualsiasi attacco nucleare, mentre le comuni vennero sfruttate fino al limite per la produzione agricola, unica merce di scambio da poter esportare verso l'Unione Sovietica, in cambio di macchinari agricoli e forniture militari, e agli altri paesi del blocco comunista. Chissà cosa avrebbero potuto realizzare se solo non avessero saltato il tutorial. Mi scuso per la lunghezza dell'episodio, ma non ho nient'altro da dire sull'argomento. Potrei entrare nei dettagli, ma non mi piace entrare troppo nei tecnicismi. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto. Ci vediamo alla prossima.